Salve e grazie per l'accoglienza Ho un nome apparentemente lungo per le vostre tradizioni In italiano ho chiesto e si può sintetizzare col Mansur del Bettolino Sono molto felice dell'accoglienza fatta da voi Questa zona è conosciuta per il vino Ma io preferisco la Fanta Società? Ho fatto due parole con qualche dirigente Voglio entrare in società da aiutare La squadra a migliorarsi Ho vissuto da vicino una stagione straordinaria dello scorso anno Visto le partenze sarà difficile ripetersi Però sono convinto che i ragazzi non faranno brutte figure Ora ho parlato con gli addetti lavori Per qualche rinnovo manca solo l'ufficialità Che arriverà nei prossimi giorni Non mancheranno i nuovi arrivi Stiamo valutando diversi profili che sono in via di definizione Aspettatevi qualche botto Silberlake è uno dei globali leader Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti